Nel segno della città metropolitana di Firenze il galà di premiazione Giglio d'Oro, giunto alla 51esima edizione che ogni anno al ristorante Carmanini del 500 a Calenzano celebra il meglio del movimento ciclistico italiano dell'anno che sta per concludersi. I premi principali sono andati ad Alberto Bettiol, il ciclista di Castelfiorentino, già vincitore di un Giro delle Fiandre che in questo 2024 ha trionfato sulle strade di Sesto Fiorentino portando a casa il titolo e la maglia di campione italiano. Essendo fiorentino, essendo toscano, essendo anche molto legato al territorio, appena posso torno qua in Toscana ad allenarmi, andare in bici in queste zone è estremamente bello e è stata un'annata speciale quest'anno con il campionato italiano, vinto qua in Toscana, poi la settimana successiva ho avuto l'orgoglio di poter far vedere questa bellissima maglia al Tour de France, nell'evento sportivo più seguito al mondo. Tra i premiati anche i giovani emergenti Mattia Gastasini, Enea Sambinello, Giulio Pellizzari. Si è respirato ciclismo a 360 gradi ricordando anche le emozioni della scorsa estate caratterizzata dalla grande partenza del Tour de France. È un momento importante per il valore che questo premio dà al ciclismo, soprattutto in un territorio dove c'è tanto amore verso questa disciplina. Quindi per continuare su quell'onda che abbiamo voluto raccontare portando il Tour de France ci fa piacere davvero che possiamo consegnare questo premio ad un nostro testimonial, ad Alberto Bettioglio, ad un ragazzo davvero semplice ma con grandi doti, non soltanto sportivi ma anche umani, che abbiamo voluto mettere all'interno dei nostri atleti esemplari della città metropolitana.